Lunedì sarà il gran giorno delle riaperture di buona parte delle attività e del ritorno alla vita quasi definitivo, ma la possibilità di far riaprire negozi ed esercizi è un atto di fiducia. Io vi dico, l'emergenza non è finita, è un atto di fiducia, perché i veneti sono persone per bene, per i veneti devono fissarsi in testa una roba, che noi passiamo la responsabilità dall'ospedale, cioè dal luogo della cura, all'individuo, al cittadino. Tutta nelle mani dei cittadini e del senso e di responsabilità dei veneti. Ecco cosa potrebbe succedere. Il cittadino si comporta male, non porta la mascherina, non rispetta le regole, fa il fenomeno, la responsabilità ripassa all'ospedale, perché tornano a salire le terapie intensive, tornano a salire i ricoveri, tornano a salire i morti, si torna alla reinfezione. Per colpa di qualcuno si rischia di non far credito più a nessuno, per colpa di qualcuno si tornerà a chiudere tutto.